Ciao a tutti e benvenuti dallo stabilimento Uteco 4 di Verona. Il mio nome è Pietro e ho nuovamente il piacere di condurre per voi una presentazione. Nella presentazione di oggi parleremo di quattro aziende che hanno unito i loro sforzi per cercare delle soluzioni di packaging innovative ma soprattutto sostenibili. Si tratta di quattro aziende leader nella filiera del packaging. Qui accanto a me ho Elisabetta Fanesi, la e-Application Development Manager di Novamont. Al suo fianco abbiamo Anan Yassat, Area Sales Manager di Uteco per il Middle East e l'Africa. Poi salutiamo Claudio Martini, Sales Manager di Ticino Plast. E last but not least Pierangelo Brambilla, che è Product Director Global Laminating, Additive and Cold Seals and Functional Coatings di Sun Chemical. Benvenuti. Grazie. Entriamo subito nel vivo della presentazione parlando dell'argomento. L'ho già citato in apertura, si tratta della sostenibilità, che è uno dei must di tutti i settori produttivi. E una delle industrie più esposte a questo must è indubbiamente quella del packaging, dove del resto è in atto un processo di grande cambiamento. Un cambiamento del packaging in generale, ma in particolare del packaging alimentare. E uno dei driver più forti di questo cambiamento è indubbiamente il trattamento del packaging o dell'imballaggio in italiano, quando ha esaurito la sua funzione, quindi a fine vita. Avendo questo ben chiaro, queste quattro aziende che rappresentano un'eccellenza di questo settore hanno unito le loro forze per cercare una soluzione, per cercare di sviluppare nuovi prodotti innovativi e sostenibili. Le quattro aziende, ripeto, sono Novamont, Sun Chemical, Uteco, che ci ospita, e Ticino Plast. Il frutto di questa cooperazione tra queste quattro grandi aziende è un packaging completamente compostabile, creato utilizzando dei materiali o delle materie prime con alto contenuto di rinnovabilità ed un'impronta ambientale drasticamente ridotta. Naturalmente senza perdere nessuno dei plus in termini di tecnologia e di comunicazione. Ma io direi di cedere subito la parola ad Elisabetta Fanesi di Novamont per presentarci. Novamont. Buongiorno, grazie. Novamont è l'azienda leader internazionale nel settore delle bioplastiche e dei prodotti chimici bio ottenuti dall'integrazione tra chimica, agricoltura e ambiente. Oggi siamo all'incirca 600 dipendenti, suddivisi tra vari stabilimenti e 200 di ricerca. Abbiamo nove linee di compagni per la produzione del Mater B per un totale di circa 200.000 tonnellate anno e sei linee di polimerizzazione per la produzione dell'Origo B per un totale di circa 110.000 tonnellate anno. E contiamo di chiudere l'anno 2021 con un fatturato di circa 340 milioni di euro. La Novamont promuove un modello di bioeconomia circolare avente le persone al centro e capace di rigenerare i territori. È un modello di sviluppo che abbiamo costruito in 30 anni di attività e si basa su tre pilastri fondamentali. Innanzitutto la reindustrializzazione di siti dismessi o non più produttivi o non più competitivi implementando delle tecnologie proprietarie prima al mondo. Il secondo è lo sviluppo di filiere agricole integrate nel territorio a basso impatto ambientale. E il terzo è lo sviluppo di prodotti, di soluzioni e applicazioni pensate come soluzioni a problemi ambientali e sociali connessi con la qualità dell'acqua e del suolo. Ad esempio nel caso dell'imballaggio flessibile nel mondo del packaging riteniamo che i materiali compostabili possano trovare l'impiego per andare a sostituire quei packaging dove oggi si utilizzano multimateriali quindi non riciclabili oppure per imballaggi le cui dimensioni troppo piccole non possono essere selezionati con gli impianti di selezione attualmente disponibili o ancora dove l'imballaggio a fine vita risulta contaminato dall'alimento e pertanto questo aiuta anche ad evitare che scarti alimentari finiscano nell'indifferenziato. Grazie mille Elisabetta. Anan parliamo di Uteco o meglio di come Uteco affronta la sfida dell'inquinamento nella stampa e nell'imballaggio nel packaging. Allora innanzitutto vorrei dirti benvenuto Pietro benvenuta a tutti i nostri partner qua al nostro stabilimento. Iniziamo con l'introduzione un po' di gruppo Uteco. Come parte di NB Renaissance Partners, fondo finanziario industriale internazionale collaboriamo con aziende del network di NB di assoluta importanza mondiale in cui stiamo sviluppando innovative soluzioni sostenibili per il mondo del packaging. Il gruppo Uteco è presente in cinque stabilimenti distribuiti tra Italia e United States of America tra questi il nostro centro eccellente di ricerca e sviluppo è il ConvertDrom dove noi studiamo e testiamo continuamente soluzioni tecnologiche del converting e della stampa in tutte le nostre aree di business e la costante espansione del gruppo grazie a nuove acquisizioni strategiche appena concluse ed alcune che verranno finalizzate prossimamente. In questa ottica noi stiamo consolidando i nostri sviluppi integrati con i maggiori gruppi nell'industria alimentare e con altri importanti brand di food and beverage, healthcare, retail e anche il packaging in generale. Stiamo continuamente effettuando test di stampa, sviluppo innovativi, di nuove tecnologie di packaging nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza del consumatore finale anche. I fronti verso cui si sta proiettando Uteco e tutto il mercato sono indubbiamente lo sviluppo di nuove tecnologie nel mondo di packaging, la digitalizzazione e la sostenibilità, ovvero i temi al centro del dibattito odierno. Essi rappresentano i trend principali del mercato, della stampa e anche del converting, nonché di tutto il mercato in generale. Uteco sta prendendo parte attiva a progetti e iniziative volte a sviluppare tecnologie sostenibili, come nel caso degli inchiostri base acqua e ebi, così come macchine in grado di unire tecnologie di eco-compatibility come la macchina per accoppiamento, spalmatura, solvent-free, il dual-arm che abbiamo qua dietro di noi e anche la Rainbow 4.0 eppure macchine flessografiche di stampa ad inchiostri ebi come la nostra Onyx XS Eco One. In Uteco noi crediamo che il futuro della nostra azienda e di tutta l'industria passi necessariamente dalle sviluppo di nuove tecnologie sempre più sostenibili, tailor-made sulle esigenze del settore, del cliente anche e dell'utilizzatore finale. Per questo motivo noi sempre stiamo investendo in più ricerca e innovazione nel mondo di sostenibilità. Grazie mille Aran. Ora invece con Claudio Martini parliamo di Ticino Plus. Prego Claudio. Ticino Plus è un'azienda che da oltre 50 anni estrude in bolla film tendenzialmente in poglietilene per i mercati del food e del beverage, il farmaceutico, personal care, pet food e industriale. Nel mercato siamo riconosciuti come leader tecnologici sempre attenti alla trasformazione e alla ricerca di nuovi materiali da applicare negli imballaggi flessibili. 15.000 tonnellate prodotte ogni anno e con prospettive di crescita direi abbastanza importanti. Grazie all'aumento di linee di produzione e a partnership internazionali. Vendiamo sia in Italia che all'estero. I nostri punti di forza fondamentalmente sono attenzione all'innovazione, ricerca e sviluppo che lavora a stretto contatto con i clienti, servizi e assistenza della progettazione fino al prodotto finale. Siamo certificati BRC ISO e soprattutto ISC Plus. Claudio, come approcciate la sostenibilità in Ticino Plast? Ticino Plast ha scelto di seguire del termine dell'economia circolare da qualche anno e le riassumiamo in tre azioni concrete. Riutilizzi, riduci e ricicla. Purtroppo riutilizzo nell'ambito del nostro settore non è un'opzione praticabile. Ci siamo quindi concentrati nella riduzione e nella possibilità di rendere riciclabili gli imballaggi prodotti con i nostri film senza modificare le caratteristiche principali dei film. In quest'ottica negli ultimi anni Ticino Plast si è concentrata nella ricerca di soluzioni che diminuiscono il peso degli imballaggi tramite riduzione degli spessori grazie ai film più tecnici e nella diminuzione delle densità dei film con i film espansi. Oltre a aver sviluppato con i propri partner internazionali i film orientati di polietirene adatti sia per i processi di stampa che per la nobilitazione tramite coating o processi sottovuoto che garantiscono proprietà di barriera sia all'ossigeno, sia ai gas che agli arami o al vapore d'acqua. Per quanto riguarda il riciclo organico Ticino Plast, grazie alla collaborazione con Novamont ha sviluppato una gamma di film compostabili adatte alla realizzazione di imballaggi alimentari. Per queste ragioni a giugno 2020 abbiamo lanciato la linea Next Film by Ticino Plast che rappresenta una nuova generazione di film dell'imballaggio espressione dell'impegno dell'azienda a favore dell'economia circolare e dell'ambiente. Grazie mille Claudio ora invece passiamo a Sun Chemical con Pierangelo, prego. Ciao, grazie Pietro. Solo una breve introduzione dell'azienda Sun Chemical e il gruppo DIC hanno un fattorato circa di 8,5 miliardi di dollari l'anno e il gruppo è una grande organizzazione in grado di fornire una presenza globale e servizi locali molto puntuali. Quello che mi preme sottolineare di questa slide è sicuramente il consistente investimento di Sun Chemical e DSI nella ricerca e sviluppo ovviamente è legato e rivolto a specifici programmi di innovazione per fornire soluzioni sempre più sostenibili che oggi è il target diciamo del nostro incontro. La recente acquisizione di Bass Color and Effect permetterà ulteriormente di porre aspetti tecnologici di sostenibilità all'interno del gruppo. L'altro grosso aspetto che mi preme evidenziare è che Sun Chemical non è solamente un'azienda leader per quanto riguarda inchiostri con tecnologia a base solvente, base anqua, stampa felixografica, rotocalco, IB, offset, UV e stampa digitale ma ha una serie di prodotti complementari per quanto riguarda i rivestimenti funzionali con vernici resistenti all'acqua, al grasso, prodotti con caratteristiche barriere all'umidità, all'ossigeno, ai raggi UV e oli minerari e primer, lacche termosaldabili col sile, adesivi, laminazione e anche adesivi barriera che ovviamente sono stati utilizzati come vedremo poi successivamente nello sviluppo di questi progetti con la filiera e i nostri partner oggi che stiamo presentando. Da anni la sostenibilità è ovviamente al centro dei processi aziendali e guida ovviamente il modo in cui sviluppiamo, produciamo e distribuiamo i nostri prodotti e operiamo con i nostri clienti e fornitori. Nello specifico, parlando di prodotti e servizi, è importante evidenziare il nostro concetto delle 5R che ci guida nelle nostre scelte, diciamo, nelle nostre attività di sviluppo sull'imballaggio e ci consente la transizione verso un'economia circolare rispetto a un'economia lineare. Le 5R brevemente rappresentano i nostri fondamenti in un'ottica di sostenibilità, quindi toccano aspetti di riutilizzo, di riduzione, di rinnovare l'imballaggio, di riciclare e riprogettare. Oggi siamo coinvolti nella più relevante fase di riprogettazione degli imballi, come ad esempio il passaggio da soluzioni multimateriali a soluzioni monomateriali o ancora il passaggio da imballaggio a base plastica a imballaggio a base cartaceo o l'interesse a valutare l'impatto ambientale di varie tecnologie di stampa e tutti gli aspetti che il mercato in questo momento sta prendendo in esame. Oltre a questo ci sono 4 aspetti fondamentali da tenere in considerazione nello sviluppo di prodotti sostenibili. Il primo riguarda il ciclo di vita in modo tale di validare le ipotesi formulative che portiamo avanti per essere sicuro che le innovazioni che portiamo sul mercato siano effettivamente sostenibili da un punto di vista ambientale. La seconda riguarda ovviamente i costi dell'imballo che devono essere il più possibili costi neutrali sulle soluzioni innovative che presentiamo e ovviamente non ci può essere nessun compromesso per quanto riguarda né la sicurezza alimentare né lo spreco alimentare quando poniamo sul mercato nuove soluzioni. E infine è fondamentale tenere presente il forte impegno delle politiche e le legislazioni al fine di garantire la conformità e anticipare i cambiamenti nelle scelte dell'imballaggio. Grazie mille Pierangelo. Anan, per cortesia descrivici come le vostre quattro aziende hanno unito le loro competenze e le loro forze. Assolutamente. Grazie alla condivisione delle nostre tecnologie e con i nostri partner che sono presenti oggi abbiamo messo a punto le nostre macchine con soluzioni adettate al scopo. una soluzione che combina la biodegradabilità compostability dei materiali sia biopolimeri inchiostri adesivi prodotti barriera e anche il substrato di sé ed anche a tecniche di estrusione stampa laminazione e accoppiamento. Le diverse soluzioni sono ideali per l'imballaggio alimentare come dicevi tu Pietro prima avendo caratteristiche tecniche analoghe a quelle attualmente adottate ma potendo terminato l'uso essere destinate al riciclo o avviate anche al compostaggio industriale. E quali sono le macchine flessografiche che avete utilizzato per fare queste prove? assolutamente Uteco ha adeguato il suo profilo di macchine flessografiche in modo da convertire queste tipologie di materiale e le modifiche principali sono stati attuati su un paio di zone iniziamo con la zona di essicazione migliorando l'evaporazione con risparmio di energia sul tensionamento del materiale sui rulli usando rulli con cuscinetti specifici e su una spirillatura appositamente studiata. La fase di avvolgimento invece è stata adeguata con sistemi ad alta sensibilità e pressori specifici ed anche usando tecnologie per quanto riguarda per esempio la Onyx XS Eco One è stata equipaggiata con la tecnologia dell'EB3 che utilizza inchiostri a dessicazione electron beam nel processo di stampa ottenendo anche costi di produzione erodotti e prodotti certificati e sicuri soprattutto per il packaging alimentare. Insieme alla stampa può svolgere i processi di spalmatura ed anche accoppiamento con un polymerization instantanea grazie alla tecnologia electron beam ed infine il taglio e l'avvolgimento con il nostro speciale avvolgitore a braccio ricorrente. Per quanto riguarda le tirature lunghe abbiamo le Diamond HP che invece è stata fatta in un modo più efficiente con elevata flessibilità velocità e anche qualità di stampa oltre che i cambi di lavoro che sono stati minimalizzati. Contemporaneamente abbiamo fatto la macchina in modo versatile precisa grazie ai sistemi di impostazione della pressione con registro automatico che permette un eccellente risultato finale. La fidibilità della struttura del gruppo stampa è il nuovo sistema di essiccazione uniti alla grande stabilità dell'elemento colore a doppia guida lineare che fa una delle macchine fa diventare il Diamond HP come una delle macchine top di gamma nelle categorie della macchine stampa flexo nel mercato. Siamo seduti di fronte alla Dual Am che è una copiatrice quindi vorrei parlare delle accoppiatrici che avete usato per effettuare queste prove. Ovviamente tutto il processo non includo solo la stampa e tutte le nostre accoppiatrici sono caratterizzate da un sistema integrato di spalmatura e anche accoppiamento multiprocesso sia a base solvente solventless o anche base acqua. Hanno un design altamente flessibile e componibile in maniera personalizzata scegliendo tra attrezzature e tecnologie innovative opzionali per quanto riguarda per la necessità del cliente. La Dual Am parlando di grazie alla tecnologia di applicazione dell'adesivo bicomponente tramite due gruppi di spalmatura uno solventless e uno semiflexo riduce drasticamente le tempistiche necessarie all'utilizzo del materiale accoppiato garantendo una superiore produttività tramite un processo maggiormente sostenibile. Il materiale laminato può essere riutilizzato dopo sole 24 ore con conseguente riduzione di costi di stoccaggio. Per questo progetto abbiamo eseguito modifiche sul mantenimento costante delle temperature e sulla distribuzione omogenea degli adesivi per una migliore qualità ottica, sul trattamento del materiale superficiale ed infine opera anche sul materiale tenendolo in tensione grazie a sistemi di alta sensibilità. Per quanto riguarda al volo il Rainbow 4.0 è la macchina ideale per le corte medie e terreture di accoppiati solventless che utilizzano tutti i materiali che vengono usati per l'imballaggio alimentare. Anan, grazie mille per averci introdotto e illustrato le migliorie e le implementazioni che avete applicato ai vostri macchinari. Ora invece è giunto il momento di guardare insieme una prima clip che introduce il primo concept realizzato insieme. La collaborazione tra Novamont Ticinoplast Sun Chemical ed Uteco ha portato alla realizzazione di un concept di laminato compostabile per il packaging alimentare in cui ciascun partner ha espresso il proprio contributo di innovazione su materie prime tecnologie di trasformazione macchine da stampa coating inchiostri ed adesivi offrendo a converter e brand owner un ampio ventaglio di soluzioni per progettare e realizzare imballaggi flessibili. La struttura è stata realizzata utilizzando due film di Ticinoplast il primo B100 ha caratteristiche estremamente innovative ed è stato ottenuto estrudendo un nuovo grado di Mater B la bioplastica di Novamont da sempre attiva nello sviluppo di prodotti biodegradabili e compostabili pensati come soluzioni in grado di fornire una risposta efficace ai problemi ambientali e alle esigenze di un consumatore sempre più sensibile ai valori della sostenibilità. Il film ottenuto rigido e molto trasparente ha caratteristiche che ne fanno un ottimo layer esterno di una struttura laminata compostabile ed un eccellente supporto di stampa. Per la stampa Uteco ha utilizzato la macchina flessografica Diamond HP 112 ideale per le grandi tirature di stampa a dieci colori. Il gruppo evoluto di essiccazione permette di ottimizzare l'evaporazione per ottenere un risparmio fino al 35% di energia. Il film B100 adatto a laccature e metallizzazione per conferire proprietà barriera è stato trattato con il coating bicomponente di Sun Chemical Sun Bar BARX 221-222 che migliora la permeabilità all'ossigeno del supporto ed è stato stampato con gli inchiostri Sun Chemical a base acqua della serie Aqualamm testati ed idonei alla certificazione OK Compost e progettati per la stampa ad alte velocità di supporti per laminazione. Come strato saldante si è utilizzato il film B102 di Ticino Plast con una particolare formulazione di Mater B ideale per garantire le migliori prestazioni sulle linee di confezionamento. L'accoppiamento tra B100 e B102 risulta essere la soluzione ideale per la realizzazione di un laminato compostabile utilizzabile per diverse applicazioni nel campo alimentare. Le soluzioni in Mater B consentono oggi di non sprecare per prodotti con un ciclo di vita breve risorse destinate ad esaurirsi e permettono di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati in favore del recupero di risorse che una volta lavorate nel processo di compostaggio industriale si trasformeranno in compost chiudendo così il cerchio della natura in cui nulla è rifiuto ma tutto torna ad essere risorsa. L'accoppiamento è stato realizzato sulla macchina Uteco Rainbow 4.0 un'accoppiatrice e laminatrice ad alta automazione disegnata per le specifiche esigenze del packaging alimentare. La laminazione è avvenuta alla velocità di 500 metri al minuto senza l'utilizzo di solventi. Per l'accoppiamento si è utilizzato l'adesivo compostabile solvent-free Sun-Lam SFC 100 HAC 306 di Sun Chemical a basso contenuto monomerico e ad alto contenuto rinnovabile che completa l'offerta integrata di Sun Chemical in materia di prodotti per laminazione dedicati alla realizzazione di imballi sostenibili compostabili industrialmente. riciclabilità ed ecodesign uniti agli stimoli di un consumatore sempre più orientato a scelte di acquisto e consumo verso prodotti confezionati con packaging meno ingombranti e più sostenibili stanno modificando il settore dell'imballaggio. La vera sfida oggi è rendere semplice l'adozione di queste soluzioni. Grazie alla nostra filiera è possibile disporre di una soluzione ready to go nel campo dell'imballaggio alimentare. Eccoci qua ben ritrovati Elisabetta prima hai citato il trademark Mater B voi dicci qualcosa a riguardo dei vostri materiali e come hanno contribuito i vostri materiali a questa prima soluzione che abbiamo visto nel video? Volentieri il Mater B innanzitutto c'è dire che appunto è il trademark con cui Donut commercializza tutti i propri materiali si tratta di una vasta gamma di prodotti biodegradabili e compostabili realizzati con risorse rinnovabili e sviluppati sempre avendo in mente il fine vita del prodotto e pertanto disponiamo di soluzioni compostabili industrialmente essenzialmente della normativa EN314432 che è la normativa di riferimento in questo settore ma anche di prodotti idonei al compostaggio domestico alcuni prodotti biodegradabili in suolo e anche alcuni in ambiente marino la maggior parte dei nostri materiali nascono per la tecnologia di filmatura in bolla mono-coex e vengono filmate su linee tradizionali per il polietilene sono caratterizzati da un'ampia gamma di proprietà meccaniche buona saldabilità sia caldo che oltra suoni e hanno un range di temperature di saldatura molto ampio che consente quindi di realizzare finco estrusi o laminati con una differente temperatura tra lo strato interno saldante e lo strato esterno e infine hanno anche un'ottima barriera agli oli e ai grassi questo vale in generale per tutti i gradi di Mater B più nello specifico per i materiali da packaging e quindi per questa collaborazione abbiamo messo a punto dei materiali ottimizzati per stampa e accoppiamento con una migliorata trasparenza e tali da poter ricevere dei trattamenti superficiali quali laccature e metallizzazioni in questo modo ampiamo le possibilità per i converter di migliorare la barriera ai gas cosa che prima era limitata solamente in fase di coestrusione e anche di introdurre la possibilità con la metallizzazione di avere anche una barriera all'umidità questo perché i materiali di base hanno ridotte barriere agli uni e agli altri e proprio questi ultimi materiali sviluppati sono poi stati oggetti della collaborazione con Ticino Plast e con Claudio si è stato chiamato in causa o meglio Ticino Plast è stata chiamata in causa cosa volesti aggiungere magari anche riguardo del clip che abbiamo appena visto allora grazie alla collaborazione con Novamont che citava Elisabetta prima Ticino Plast ha immesso sul mercato una nuova famiglia di film compostabili già certificati ok compost appositamente studiati per realizzare imballaggi compostabili anche multistrato e quindi dei laminati in particolare in questo in questo test abbiamo utilizzato il nostro film B100 che è stato studiato come supporto di stampa anche in rotocalco grazie alla sua particolare rigidità offre ottime caratteristiche di trasparenza per essere un film compostabile utilizzabile sia per la stampa specchio che per una stampa esterna adatto anche a laminazione con carta per la realizzazione di buste finestrate praticamente sostituisce nel packaging tradizionale i film di polipropilene bioorientato polipropilene nylon o poliestere e tutti i supporti di stampa tradizionali in caso di applicazione di packaging compostabile e come diceva Elisabetta è adatto sia al coating che alla metallizzazione come strato saldante invece in questo caso abbiamo utilizzato il film 102 è stato studiato apposta come layer saldante di un laminato fatto con il B100 grazie alla sua morbidezza e alle sue caratteristiche meccaniche ha una buona trasparenza una volta laminato con il B100 ha buone caratteristiche meccaniche è molto importante invece la sua bassa capacità la sua capacità di basso saldante quindi ha una seat veramente bassa circa 65 gradi che permette la macchinabilità sulle macchie di confezionamento ok grazie mille Claudio Pierangelo Sun Chemical che contributo dà a questa soluzione? diciamo che la collaborazione con i colleghi qui nasce da lontano e ha l'obiettivo principale di utilizzare i prodotti che fanno parte della gamma Sun Chemical per funzionalizzare questi materiali nomativi compostabili rendendo la soluzione una valida alternativa al packaging multimateriale che attualmente vediamo nei supermercati sugli scaffali ovviamente ottenendo un aspetto di sostenibilità relativo alla compostabilità dell'imballo selso in quest'ottica Sun Chemical ha investito parte della sua attività di ricerca e sviluppo arrivando a offrire un pacchetto innovativo di soluzioni mirate e concentrate sull'ottica della compostabilità e quindi oltre alla gamma ampia di inchiostri base acqua base solvente certificati TUV per l'aspetto di compostabilità ha introdotto nel suo portafoglio di prodotti e utilizzati in questo concept adesivi per laminazione base acqua base solvente una lacca barriera certificata di incerco che consente di ottenere un miglioramento delle proprietà barriera dei film compostabili utilizzati e abbiamo lo studio ulteriori prodotti come vernici di sovrastampa con effetto reliso o con termoresistenza col seal un nuovo adesivo certificato compostabile casalingo che andremo a posizionare sul mercato nel primo trimestre del 2022 grazie mille Pierangelo ed ora è giunto il momento di vedere insieme un secondo video e in questo video vedremo la stampa e la laminazione di un imballaggio riciclabile in polietilene questo video è dedicato alla realizzazione di un laminato monomateriale 100% in polietilene adatto a diverse applicazioni con lo scopo di agevolare la riciclabilità perseguendo gli obiettivi di un'economia sempre più circolare in particolare protagonista della clip è il B.O.P.E un film in polietilene bioorientato Tenter Frame che fornisce buone proprietà meccaniche e ottiche adatto per la stampa e il coating in applicazioni mono e multistrato il progetto B.O.P.E PIONEER è stato sviluppato grazie alla preziosa collaborazione tra Ticino Plast e Plast Kim T la struttura in oggetto è composta da un supporto di stampa B.O.P.E PNR B37P un film estremamente innovativo realizzato con una miscela di polietilene alta densità e lineare bassa che conferisce al materiale caratteristiche di brillantezza e trasparenza tipiche di altri polimeri oltre a caratteristiche meccaniche che ottimizzano i processi garantendo ottimi risultati di stampa e confezionamento questo film si presta anche per processi di nobilitazione come metallizzazione e laccatura per migliorarne le caratteristiche di barriera per il substrato saldante Ticino Plast ha estruso in bolla un film appositamente pensato per essere accoppiato al B.O.P.E. e progettato per garantire le performance abituali in fase di confezionamento grazie alla sua temperatura di saldatura estremamente bassa in questo caso Uteco ha realizzato la sua Diamond HP 112 particolarmente versatile e precisa e la tecnologia innovativa della copiatrice solventless Dual Am che garantisce per le corte tirature una produttività fino al 35% superiore ad una macchina tradizionale con un processo maggiormente sostenibile Dual Am è caratterizzata da un innovativo sistema di laminazione che la rende adatta a spalmare adesivi bicomponenti senza solventi e ad alte prestazioni ad una velocità fino a 500 metri al minuto e con un tempo di polimerizzazione ridotto di oltre il 90% per la stampa interna sono stati selezionati gli inchiostri a base acqua Sun Chemical della serie Aqualam progettati per la stampa ad alte velocità di film plastici per laminazione l'accoppiamento tra i due film è stato effettuato utilizzando la tecnologia di laminazione Dual Am che grazie agli adesivi ad essa dedicati Dual Am DC-017A e DCO-005 caratterizzati da una rapida polimerizzazione ed elevata bagnabilità consente di ridurre in misura significativa la parte non polimerica della struttura stessa con l'obiettivo di migliorare la riciclabilità e la qualità del riciclato ottenuto dal fine vita dell'imballo la tecnologia di laminazione Dual Am ha inoltre il vantaggio di un'ampia flessibilità di utilizzo consentendo di impiegare anche adesivi tradizionali a seconda della performance della struttura finale e in funzione delle caratteristiche desiderate ben ritrovati Claudio molto interessante questo video però spiegaci in sostanza cosa abbiamo visto come accennavo prima stiamo facendo un packaging 100% polietilene quindi sul porto di stampa si tratta di un film in polietilene bioorientato tenter frame lo abbiamo chiamato progetto Pioneer sviluppato insieme con una collaborazione molto preziosa tra Ticino Plast e Plast Kim T Ticino Plast ha messo a disposizione la sua vasta conoscenza nella produzione di film in PA in termini di progettazione strutture e formulazione è un film progettato per la riciclabilità facilita le strutture monomateriali in polietilene rendendo la confezione facile da riciclare consentendo l'utilizzo negli imballaggi alimentari ha una buona planalità ed è facilmente stampabile ha elevate proprietà meccaniche di tenuta eccellente saldabilità per prevenire perdite e ridurre lo spreco di cibo è un'ottima opportunità di riduzione di spessore dell'imballaggio al netto delle performance cioè che le performance rimangono costanti facciamo tre tipologie di questo film un 100% lineare bassa densità un film 100% alta densità oppure un mix un blend tra alta densità e lineare ed è quello che presentiamo proprio oggi sono in fase altre diverse versioni di questi film sia stampabili che saldanti trattati bitrattati antifog per tutti gli utilizzi nel mondo del converting in questo caso presentiamo il film che si chiama PNRB37P l'attenzione è stata rivolta alla realizzazione di un film stampabile ad alte prestazioni meccaniche e di trasparenza per esaltare le caratteristiche di stampa delle macchine Euteco proprio in questo caso contemporaneamente Ticino Plasta ha messo a punto un film in polietilene in bolla basso saldante scivoloso per garantire le migliori performance in macchina di confezionamento l'utilizzo di film in BOP garantisce vantaggi economici sfruttando elevate proprietà meccaniche e consistendo la sostituzione di poliamide poliestere esterni che vengono utilizzati precedentemente nell'imballaggio diciamo tradizionale d'altra parte l'elevata tecnologia disponibile per i film in polietilene in bolla da utilizzare come film saldanti all'interno della confezione consente una generale riduzione del peso delle confezioni in modo materiale qui abbiamo quindi possibilità di riciclo facilità di riciclo e riduzione di quantitativi plastici grazie Claudio Pierangelo in questo caso qual è stato il ruolo di Sun Chemical ma come già accennato Claudio quando i nostri partner ci hanno accennato il discorso della riduzione e riciclabilità che sono una delle nostre parte dello sviluppo delle 5R presente prima Sun Chemical ha risposto presente e quindi qui abbiamo dimostrato la possibilità di realizzare un imballo a base poliolefinica con l'obiettivo della riciclabilità migliorando la qualità ottenuta del riciclato alla fine della vita di utilizzo dell'imballaggio stesso Sun Chemical ha sviluppato una serie di prodotti rivolti specialmente indicati per la riciclabilità e la riduzione dell'imballo che sono tutta una serie di coating adesivi barriera che possono essere combinati per ottenere e massimizzare il massimo delle prestazioni a livello di barriera e aumento della shelf life del prodotto contenuto all'interno dell'imballo stesso nella specifica realizzazione di questo concept abbiamo utilizzato inoltre una serie di inchiostri base acqua ad alta resistenza termica quindi per migliorare la degradazione durante il processo di riciclabilità e la tecnologia Dual Lam che Anan ha precedentemente illustrato che è una tecnologia che consente una riduzione del peso di adesivo applicato sull'imballo e quindi ovviamente una migliora riciclabilità e qualità del riciclato ottenuto a fine vita del processo inoltre la tecnologia Dual Lam avendo il vantaggio di poter evitare la camera calda avendo tempi di reticolazione molto veloci come indicato nelle 24 ore consente potenzialmente una riduzione dell'emissione di CO2 quindi concorre ulteriormente all'aspetto di sostenibilità tutte queste tecnologie ovviamente di San Chemical hanno il vantaggio di essere delle soluzioni che si possono combinare e integrare per massimizzare le prestazioni sui nuovi imballi che andiamo a ridisegnare in funzione degli imballi multimateriali o alternativa agli imballi multimateriali grazie mille Pierangelo ora invece è giunto il momento di guardare insieme un terzo video una delle tendenze legate a numerosi progetti in ottica di sostenibilità nell'imballaggio alimentare è quella che ha come obiettivo la riduzione di peso dell'imballo in tale ottica la soluzione presentata declina il concept del monostrato con la stampa esterna per tale stampa è stata utilizzata la serie di inchiostri Electron Beam Flexo Wet Flex in combinazione con la vernice di sovrastampa EB Flexo H79398 idonea a sterilizzazione Gli inchiostri Electron Beam Wet Flex si basano su una tecnologia solvent free sono quindi esenti da sostanze organiche volatili VOC tanto gli inchiostri quanto le vernici sono inoltre altamente reticolabili ed offrono quindi all'imballo e alla stampa elevate proprietà di resistenza cosa che permette di avere un alto potenziale nella progettazione di strutture che abbiano come obiettivo la riduzione in peso Sun Chemical ha sviluppato una gamma di prodotti EB Flexo complementari agli inchiostri Wet Flex come ad esempio il bianco per laminazione W2774 o come il bianco First Down a tecnologia ibrida Water Base Electron Beam inoltre i coating Aeroblock e gli adesivi Paslim in grado di contribuire a migliorare la performance barriera ossigeno per un'ampia gamma di substrati tanto per strutture monomateriali che monostrato integrano l'offerta di Sun Chemical per la realizzazione di soluzioni sostenibili per la stampa Uteco ha utilizzato la sua macchina speciale Onyx XS Echo One che ha permesso sia la stampa sul film monolayer sia il processo di accoppiamento e laminazione Onyx XS Echo One dotata di tecnologia EB3 è stata disegnata per poter utilizzare inchiostri a essiccazione electron beam e garantire un'elevata efficienza produttiva una velocità di 300 metri al minuto ridotte emissioni e un risparmio energetico fino al 30% rispetto a soluzioni tradizionali eccoci qua ben ritrovati Pierangelo ci siamo lasciati prima del video continuiamo con te per cortesia e descrivici cosa abbiamo in sostanza appena visto in questo terzo video certamente il terzo concept che presentiamo oggi come packaging sostenibile è quello relativo a una stampa esterna realizzata con inchiostri EB Wet Flex e completata con una vernice di sovrastampa EB ad alta resistenza termica la tecnologia Wet on Wet degli inchiostri Wet Flex presenta alcune caratteristiche di sostenibilità principali quindi assenza di solventi o fotoniziatori eccezionale adesione e flessibilità e un grande potenziale per le applicazioni a basso peso quindi in un'ottica di riduzione dell'imballaggio per stampa esterna monofilm la combinazione degli inchiostri Wet Flex e i coti in barriera di cui abbiamo già parlato in precedenza consentono potenzialmente il passaggio ancora una volta da strutture multimateriali quindi difficile riciclabilità a strutture monomateriali o monolayer quindi un'ottica di riciclabilità di sostenibilità dell'imballo tra molti aspetti della tecnologia EB Wet Flex pick ovviamente il fatto di una stampa esterna e quindi concettualmente l'aspetto principale di questa tecnologia si può facilmente identificare nella facilità o nella potenziale facilità di disinchiostrazione della superficie esterna e quindi di migliore ottimizzazione del processo di riciclo e di qualità del riciclato ottenuto come si può evidenziare nell'immagine della diapositiva legale perfetto grazie mille Pierangelo ora invece per concludere questa presentazione questo webinar abbiamo preparato per i nostri ospiti una serie di Q&A cioè domande veloci con risposte altrettanto veloci iniziamo con la signora ladies first con Elisabetta allora se tutti i componenti di cui ci avete parlato sono certificati compostabili questo vuol dire che il laminato finale dove automaticamente quindi è automaticamente anche un certificato compostabile purtroppo no il laminato finale va anch'esso certificato perché delle parti della certificazione proprio competono alla struttura definitiva e quindi il converter dovrà poi occuparsi degli ultimi aspetti ok grazie mille poi una prima domanda anche per Claudio che impatto hanno questi nuovi materiali sulle linee di confezionamento attualmente in uso lavoriamo tantissimo per far sì che i materiali che questi nuovi materiali possano girare tranquillamente sulle macchine di confezionamento attualmente in uso tendenzialmente funzionano si possono lavorare magari c'è qualche piccola attenzione che bisogna dare alla macchina quello che sicuramente è importante è che le impostazioni delle macchine vanno cambiate rispetto ai materiali tradizionali grazie mille la prima domanda anche per Pierangelo la sostituzione delle strutture multimateriale è davvero il più forte trend del momento? è uno degli aspetti fondamentali su cui il mercato si sta focalizzando in un'ottica di sostenibilità e miglioria di riciclabilità dell'imballaggio ma ovviamente non è il solo oggi abbiamo presentato un aspetto altrettanto importante che è l'aspetto della compostabilità e possiamo citare un altro che è potenzialmente il passaggio da packaging a base plastica a packaging a base cartaceo o cartoncino ok grazie mille Anan dopo questa prima esperienza di collaborazione come procederà Uteco? allora l'idea di Uteco è di fare o dare l'opportunità a tutto il mondo di avere un imballaggio flessibile riciclabile e anche diciamo eco-friendly l'idea di questo è non vogliamo avere questo solo nel mercato di Europa o America vogliamo anche spingere più verso i mercati emergenti e dare una mano a tutto il mondo per avere un futuro più green per fare un piccolo sum up un'ottima missione direi beh una seconda domanda per tutti voi riparto da Elisabetta Elisabetta queste nuove strutture eco-friendly garantiscono la stessa sicurezza alimentare delle strutture chiamiamole tradizionali? assolutamente sì anche tutti questi materiali sono dei materiali plastici eco-metalli sono soggetti alle medesime normative che sono molto stringenti grazie mille Elisabetta Claudio è possibile associare una certificazione di sostenibilità a questi prodotti? sì assolutamente sì noi come Ticino Plus ci siamo certificati ISCC Plus proprio per poter dare una certificazione di sostenibilità ai nostri film grazie mille Pierangelo l'opportuna combinazione di coating e adesivi consente di sostituire anche strutture a base di EVOH o metallizzati o alluminio? diciamo che come anticipato in precedenza le soluzioni integrate di Sun Chemical in combinazione con film e materiali innovativi del mercato consentono ovviamente di spingersi su soluzioni che possono sostituire strutture barriere attualmente utilizzate quali le VOH film metallizzati o alluminio su altro c'è molto da fare e necessita diciamo tutto questo aspetto la condivisione con la filiera di cui oggi abbiamo un esempio e a valle poi i converter che conoscono il materiale da confezionare e l'imballo finito grazie Pierangelo last but not least seconda domanda per Anan ovvero come possono i converter attingere a queste informazioni? assolutamente diciamo che il scopo di questo progetto intero grazie anche alla conoscenza dei nostri partner l'idea è di insegnare e anche fare come un partner con i nostri clienti e i nostri converter di creare un mondo più sostenibile il nostro Converdom è stato equipaggiato con macchine che non sono solo adettate per diciamo fare il conversion di materiali tradizionali se vogliamo chiamarli così ma anche materiali di cui stiamo parlando quindi l'idea è che noi vogliamo occuparci sia dalla fase di training grazie ai nostri partner il know-how dei nostri partner fino alla stampa e anche il converter di questi materiali per avere un mondo più green grazie mille Anan cari amici il tempo a nostra disposizione per questa presentazione purtroppo termina qui prima di lasciarci vorrei naturalmente ringraziare i nostri ospiti Elisabetta Anan Claudio e Pierangelo per la loro disponibilità per qualsiasi domanda vi invito a rivolgervi ai nostri esperti all'indirizzo email uteco vr chiocciola uteco punto com uteco vr chiocciola uteco punto com il mio nome è Pietro è stato piacere vi do appuntamento alla prossima presentazione uteco grazie e ciao a tutti da Verona grazie a tutti 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 grazie a tutti